Le più belle giornate di questo campionato sicuramente 4-0 risultato finale contro il Bolzano e come al solito una grande partita di Croci. Una grande partita di tutti, non solo di Croci perché l'abbiamo proprio voluta. Con la vittoria speravamo proprio di vincere per fare i due punti che sono davvero importanti per noi. Speriamo di fare il giro di ritorno a quei livelli qua, visto che ci servono proprio i punti per salvarci. Sì, la partita di oggi, un gran bel gol il tuo, il primo, poi avete contenuto bene nel finale, avete dilagato. Noi con le squadre che giocano a zona, che giocano in linea abbiamo molte possibilità di fare gol perché siccome siamo una squadra che giochiamo in contropiede, sfruttiamo bene gli spazi e quindi se ci va bene, se siamo in giornate che riusciamo a trovarci davanti al portiere, riusciamo anche a fare dei gol. Quindi una vittoria di oggi che sicuramente darà morale alla squadra per un girone di ritorno, speriamo di buon livello e che riuscite a salvarvi. È quello che speriamo tutti, speriamo di fare un buon girone di ritorno e salvarci, far contenti tutti i tifosi e il presidente. Benissimo, ringraziamo Croci, aspettiamo il mister Albe. Finale di partita con il mister Albe e allora mister, oggi tutto benissimo. Beh, direi di sì, direi proprio di sì, ha detto giusto lei, tutto benissimo. La partita si è svolta in maniera abbastanza classica, dopo essere passati in vantaggio avete contenuto bene e poi in contropiede. Esatto, siamo passati in vantaggio, poi abbiamo contenuto direi abbastanza bene, soffrendo molto perché sicuramente il Bolzano è una buonissima squadra, noi lo sapevamo già, ci siamo sacrificati, abbiamo sofferto, forse siamo rimasti fin troppo intrappolati fino al secondo gol, troppo dietro, però lei capisce che noi siamo terzo ultimo in classifica e abbiamo paura un pochino di tutto, quindi speriamo che questa vittoria ci aiuti a superare quei momenti difficili a livello psicologico che attualmente abbiamo. Ecco, infatti l'unico neo forse della partita di oggi è appunto questo fatto che forse vi siete difesi un po' troppo e rotta la davanti era un po' da solo. Sì, quello che hai detto prima, diciamo che anche quando passiamo in vantaggio, poi la paura di prendere il gol, la forza degli avversari, ma in buona parte anche la nostra paura che però è anche giustificata dalla classifica, per cui si va in campo, si ha sempre un pochino paura di subire e quindi usciamo poco, effettivamente è vero, questo è un problema che si trasciniamo da un po' di tempo. Comunque oggi due punti in più in classifica, grosse speranze per il futuro perlomeno. Sì, diciamo che ci aiutano a sperare, noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, è chiaro che sapevamo che era molto difficile, è forse anche più difficile di quello che pensavamo, il campionato, chiaramente adesso bisogna fare punti, o si fanno, altrimenti si torna indietro. Benissimo, ringraziamo mister Albe, da Cassano è tutto, la linea torna allo studio. Grazie, grazie.